Eravamo vivi, vivi tanto, tanto, tanto. Era una famiglia, non come una famiglia, era proprio una famiglia. La gioventù che ci veniva dietro era una cosa straordinaria. E' stato grandioso. Era imbattibile. Come vedete era bellissimo. Era super orgoglioso. Mi sto emozionando anche molto di più grazie allo sport per agli impi. Io non pensavo che esistessero proprio degli ambienti in cui ci fosse più acqua che nella vasca da bagno. La medaglia la voglio vincere, la voglio vincere con le mie braccia. Qui possiamo diventare degli atleti veri. Siamo la nazione più forte del mondo in and by. Ho trovato normalmente il modo di fare uno sport di resistenza che non è, come dire, la storia della volpe dell'uva. E' anche bellissimo. E' anche bellissimo. Grazie a tutti.